Musica Si riparte, settembre segna l'avvio dei lavori del Consiglio regionale con tanti argomenti in agenda fin dai prossimi giorni. Il Consiglio regionale continuerà regolarmente ad informarvi ogni venerdì dopo il nostro Tg della Sera con molte repliche durante il weekend. Quali sono i temi al centro del confronto nelle prossime settimane? Molti e importanti come il documento di economia e finanza regionale, la variazione di bilancio, il piano dei rifiuti, la questione di Toscana Strade e del pedaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno. Hanno già lavorato intanto in questi giorni le commissioni che hanno preparato i primi atti all'esame nella prossima seduta, lavoro, ambiente, trasporto, sanità, alcuni dei temi affrontati. Proprio mentre arrivano le prime temute perturbazioni temporalesche sulla Toscana e si avvicina l'anniversario dell'alluvione di Livorno del 2017, il 10 settembre, riprende a lavorare la commissione di inchiesta creata invece dopo il disastro del novembre scorso. Prima audizione, quella del presidente Gianni. È di queste ore il provvedimento del governo sulle concessioni balneari era molto atteso, tanto che il Consiglio regionale della Toscana poche settimane fa aveva stabilito con proprie norme alcuni criteri guida e cosa accadrà adesso. Proseguono in tanti comuni le iniziative che celebrano l'ottantesimo anniversario della liberazione, a cui nei diversi territori partecipano anche i consiglieri regionali. Il Consiglio ha sostenuto direttamente molte di queste manifestazioni insistendo sempre sul valore della memoria. Il 10 settembre del 2017 le piogge torrenziali che cadevano da ore su una parte del territorio della città di Livorno provocare una risondazione di alcuni corsi d'acqua nella zona sud. Un'intera famiglia fu sommersa, quattro furono le vittime vicino allo stadio, altre quattro persone morirono a collinaia. Tra poche ore ci sarà il ricordo di questa tragedia, mentre proseguono ancora i lavori per la messa in sicurezza definitiva delle aree colpite. Non è stato un caso isolato purtroppo, perché nel novembre del 2023 c'è stata un'altra tragedia e ci furono altri otto morti. Fu colpita allora mezza Toscana, il disastro più grave comunque ci fu nella piana fiorentina, pistoiese e pratese. I danni poi furono enormi, oltre i due miliardi. Inevitabili all'indomani le polemiche politiche, ma alla fine, per volontà unanime del Consiglio regionale, è stata istituita una commissione di inchiesta, che è presieduta da una consigliera di opposizione, Elisa Tozzi, e che nel frattempo ha cominciato a lavorare, dandosi un ordine delle priorità, condiviso. L'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a fare un lavoro quanto più condiviso possibile, anche con un'unica relazione, che però si muova attraverso diverse direttrici. Anzitutto quella che è stata la cronologia degli eventi, quindi ciò che è accaduto quella sera, partendo poi da tutto quello che è il sistema di allerta regionale, per poi passare a quello che è oggi la situazione da un punto di vista di infrastrutture, di interventi, di investimenti per quanto riguarda il rischio eterogeologico, dei vari comuni coinvolti anche, e poi tutto quello che riguarda la parte della gestione emergenziale vera e propria, quindi i ristori, con il coinvolgimento anche dei comitati dei cittadini, che si sono costituiti in diverse parti della Toscana, pensiamo a Campi Bisenzio, ma non solo, perché credo che quell'interlocuzione sia davvero fondamentale, oltre naturalmente al coinvolgimento della parte tecnica della struttura regionale, perché ciò che vogliamo davvero verificare e accertare, soprattutto lasciare poi anche a chi verrà dopo, è uno studio attento su quella che è la situazione della Toscana per poter approntare i necessari interventi e far sì che in qualche modo quello che è successo, non dico si possa evitare, ma che perlomeno sia oggetto di un attento monitoraggio per il futuro. La prima audizione è quella del Presidente della Giunta regionale, Eugenio Gianni, che è anche il Commissario per l'Emergenza e per gli interventi di mitigazione del rischio. Poi, questo lunedì 9 settembre, c'è anche la convocazione dell'assessora alla protezione civile Monia Monni. Tra i gruppi politici emerge la volontà di collaborare, anche per far sì che disastri così non si ripetano più. Al momento il clima è un clima costruttivo, di ascolto reciproco e anche di possibilità di individuazione di obiettivi da raggiungere. Come maggioranza, insieme anche al collega di Italia Viva Sguanci, sicuramente teniamo moltissimo al lavoro di questa Commissione e la riprova è che il piano di lavoro, il programma di lavoro è stato approvato all'unanimità. Tutti i gruppi hanno portato il loro contributo e noi ci teniamo a evidenziare come questa Commissione possa essere anche uno strumento fondamentale, ad esempio per richiamare il Governo a fare quello che deve fare, a fare quello che era stato promesso, ovvero a mettere a disposizione anche i fondi assicurati perché questo sarebbe un atto molto importante. Quindi sicuramente utilizzeremo la Commissione anche per esercitare questa forma di stimolo e di sollecitazione. E dunque si riparte per un tour de force politico-istituzionale davvero intenso nelle prossime settimane che ci riserverà tanti argomenti di assoluto rilievo nella politica toscana. Facciamo una sintesi veloce di alcuni spunti introdotti dai capi gruppo. Abbiamo dei problemi e dei temi da affrontare che in realtà abbiamo già iniziato a trattare. Sto pensando per esempio al piano dei rifiuti che è stato adottato, che ha visto la presentazione di tutte le osservazioni che sono in fase di valutazione da parte dell'assessorato ma che alla ripresa dovranno approdare in aula perché il piano dei rifiuti deve essere approvato dando quindi uno strumento importante che serve ai cittadini e alle imprese. Il piano dei rifiuti che ci vedrà a settembre pronti a dibattere sull'aula di consiglio regionale ed esprimere le nostre posizioni in contrapposizione anche con il Partito Democratico sul tema dei rifiuti e poi l'ultimo tema che a noi sta particolarmente a cuore è sicuramente quello dell'acqua quindi quanto noi riteniamo importante il tema dell'acqua che debba stare fuori da quel processo iniziato dal PD sul tema della multiutility. I pilastri su cui organizzare questo scorcio di legislatura rimangono quelli con cui l'abbiamo iniziata perché continuano a essere imperativi nella nostra agenda. Il lavoro, la tutela soprattutto del lavoro e della dignità del lavoro, la sanità che è sempre più un problema soprattutto dal punto di vista economico piuttosto che un diritto e l'ambiente che è fortemente collegato alla qualità della nostra vita. Penso al piano dei rifiuti, penso a Toscana Strade, penso al piano sanitario, penso alla legge sul turismo faremo in modo che non soltanto ci sia la possibilità, chiaramente speriamo anche dal punto di vista pratico di poter precisare quello che è il nostro punto di vista ma trasformare poi questo punto di vista in quella che sarà l'alternativa progettuale di governo per la regione toscana alla prossima scadenza elettorale. Avremo una stagione importante che nel contempo ci vedrà impegnati per fare in modo che anche alcuni grandi investimenti infrastrutturali prendano corpo da qui a fine anno, non soltanto nei collocamenti ferroviari ma anche stradali, quindi una stagione interessante e importante e anche un aggiornamento su quello che sarà il quadro del sistema sanitario toscano per erogare nell'ultimo anno migliori servizi, diminuire le liste d'attese e soprattutto aumentare il livello qualitativo dei servizi che eroghiamo. Riprenderemo dopo la pausa estiva del Consiglio regionale partendo dalle questioni fondamentali prima fra tutte la sanità, siamo convinti che occorre fare un'accelerazione, dobbiamo snellire le liste d'attese i dati dimostrano che la Toscana è maglia nera per quanto riguarda le liste d'attese, è maglia nera per quanto riguarda la diagnostica, ecco tutta una serie di iniziative come Forza Italia metteremo in campo alla ripresa di settembre e naturalmente che ci porteranno alle elezioni regionali del 2025. Io più volte ho impostato i miei atti su un cambiamento di prospettiva, non più la medicina basata su quanto viene speso per la risonanza magnetica, anzi per una visita, ma per arrivare alla guarigione, quindi non più fee for service ma fee for value, quindi la medicina basata sul valore. Una delle ultime leggi approvate quest'estate dal Consiglio regionale, lo ricordiamo, fissava delle linee guida per i comuni in tema di concessioni balneari. Si basava su due principi generali, l'equo indennizzo per i concessionari uscenti e la premialità nelle future gare per le piccole e medie imprese. Mercoledì 4 settembre però il governo è intervenuto direttamente nella questione, mettendo fine ad una vicenda che si trascinava ormai da anni, così di fatto ha sterilizzato, almeno per ora, la legge toscana. L'assessore al turismo, che critica comunque le scelte del governo, dice tuttavia che pur dovendosi adeguare alle norme nazionali, la Toscana non si fermerà per offrire ai comuni e alle imprese toscane un quarro uniforme di riferimento. La terza commissione alla ripresa del lavoro ha subito affrontato il tema molto attuale delle aggressioni al personale sanitario. Nell'ottobre del 2023, pochi mesi dopo l'uccisione a Pisa della psichiarra Barbara Capovani, la giunta regionale ha stanziato 2 milioni e 100 mila euro per la prevenzione. L'obiettivo è finanziare misure aggiuntive rispetto a quelle già previste, migliorare la comunicazione con i cittadini e la risposta ai bisogni dell'utente, fornire indicazioni per la tutela legale degli operatori che prevedano la presa in carico da parte dell'azienda e migliorare gli strumenti di tutela. Per fare il punto, ad un anno dall'emanazione del provvedimento sono stati ascoltati tutti i direttori delle aziende sanitarie. Sono state installate nuove telecamere, sono stati applicati sistemi di sicurezza più evoluti, sono stati fatti corsi di formazione. I dati raccolti dall'osservatorio regionale dimostrano un aumento dei casi denunciati. Nel primo semestre di quest'anno ci sono stati 1136 casi di aggressione, 207 di aggressione fisica, 903 verbale, 26 contro la proprietà. Le aggressioni avvengono nella maggioranza dei casi al pronto soccorso in ambito ospedaliero e in ambito territoriale nei servizi di psichiatria. Solo il 5% diviene un caso di infortunio sul lavoro. Dei collegamenti marittimi con le isole dell'Arcipelago ha discusso la quarta commissione. Anche questo è un tema molto caldo. L'assessore confida che entro la fine di settembre possa essere predisposto il bando per una gara unica. Diversi amministratori, pur apprezzando la scelta della gara unica, hanno espresso tuttavia preoccupazione per lo scenario che si aprirebbe nel caso in cui la gara andasse deserta. I sindacati hanno anche chiesto rassicurazioni rispetto alla situazione che si creerebbe a gennaio, una volta esaurita la proroga di un anno del procedimento di assegnazione. Sempre l'assessore Baccelli ha spiegato che gli uffici stanno lavorando alla possibilità di far valere l'obbligo di servizio fino ad affidamento al nuovo gestore per assicurare la continuità. La stessa commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza ai bilanci di esercizio del 2023 di Arpat e del Consorzio Lamma. Si è parlato del sostegno al settore agricolo forestale della Toscana nei lavori congiunti delle commissioni per lo sviluppo rurale e per il bilancio. Sono due le fonti di finanziamento in sostanza. Una è legata alla legge 39 del 2000 che destina risorse per circa 6 milioni e mezzo, cui si aggiungono 3 milioni e 300 mila euro che derivano da introiti per taglio della linea e concessioni. La seconda linea di finanziamento, legata a un'altra legge, la 68 del 2011, stima risorse a favore delle unioni dei comuni per 12,6 milioni. Sono quasi 400, lo ricordiamo, gli operatori forestali a cui si aggiunge il personale tecnico e amministrativo, circa 100 unità. La seconda commissione ha anche approvato le nuove regole per le piante medicinali che si adeguano adesso alla normativa nazionale ed europea e ha espresso parere favorevole a maggioranza al bilancio di esercizio 2023 dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego Arti. Settembre è un mese di grandi e piccoli eventi in Toscana che qui trovano la loro casa, la loro vetrina, ma è anche il periodo questo in cui si continuano a celebrare gli 80 anni della liberazione delle nostre città, piccole e grandi. I consiglieri partecipano a tante di questa iniziativa. Il presidente dell'Assemblea negli ultimi giorni era a Pisa per ricordare la liberazione del 2 settembre 1944. A noi il compito di ricordare, di fare memoria, specialmente oggi che i testimoni di quelle tragedie non ci sono più. Città e comunità che venivano straziate, stravolte dalle bombe e poi il momento di felicità. L'arrivo delle truppe alleate e insieme ai partigiani hanno permesso di liberare le nostre città, ma la libertà è come un fiore e ogni giorno va innaffiato. Non diamo per scontato mai di avere quella libertà che con il sangue ci è stata donata dai nostri avi. Tante iniziative presentate qui mantengono la loro connotazione tradizionale con radici anche religiose, spesso come la festa della Madonna dei Lumi il 7 e l'8 settembre a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Una festa di luci, appunto, per tutta la notte, carica e di emozioni. E poi c'è la storia che riemerge per esempio nel palio del Diotto di Scarperia. Il palio, a 718 anni dalla fondazione della città, torna l'8 settembre di ogni anno e vede gareggiare i rioni del paese. Questo è il fine settimana anche del Memoria al Paolo Rossi. Giunto alla terza edizione si svolge in vari comuni della provincia di Arezzo, coinvolge tanti giovani calciatori e calciatrici a promuoverlo. C'è anche la vedova del campione del mondo. Possiamo definirlo veramente un grande evento, un percorso iniziato tre anni fa, quasi per gioco, con le squadre dove Paolo aveva militato e che adesso è arrivato a ben 20 squadre a livello internazionale, quindi società importanti, ragazzi giovani che sicuramente insomma riusciranno anche a dare il meglio dal punto di vista sia tecnico, sia umano, fair play, tutti i valori che poi Paolo ha sempre incarnato. Anche l'UEFA si muove per questa manifestazione a rappresentarla. C'è un altro campione del mondo, compagno di Paolo Rossi nella nazionale di Bearzotte, Beppe Dossena. Il valore e la testimonianza e ciò che ha lasciato Paolo sono universali, sono universali in un momento poi particolare come il nostro, anche al di fuori del calcio, quindi la sua capacità di vivere uno spogliatoio, la tolleranza, la pazienza, ciò che lui ha messo in comunità insieme a dei colleghi, quindi nessuno di noi l'ha mai visto arrabbiato, nessuno di noi l'ha mai visto scostante, è sempre stato a disposizione in qualsiasi momento, quindi sono valori che nei ragazzi, negli spogliatoi, nella scuola, ma anche negli ambienti di lavoro sono moderni, quindi quello io credo che sia il patrimonio più grande che Paolo lascia. Gemellaggio ideale in questi giorni tra la Toscana e la Basilicata con l'ottava edizione a Firenze della settimana lucana fino al 14 settembre, sette giorni insomma di concerti, spettacoli, eventi e performance in tanti quartieri della città, queste sono le immagini della presentazione. Vi ricordiamo infine che sono ancora aperti alcuni bandi, uno è per la miglior tesi di laurea magistrale ed è intitolato a David Sassoli, destina a 20.000 euro, il tema è l'Europa, le regioni, i cittadini, le tesi devono essere realizzate da studentesse e studenti degli Atenei Toscani, molte di quelle che sono state premiate nelle precedenti edizioni sono diventate dei libri veri e propri in modo da cristallizzare, diffondere ancora di più le conoscenze sull'Europa. C'è tutto il mese poi per partecipare a due bandi del core come il Comitato per le comunicazioni, uno Toscana e Spot quest'anno è rivolto ai videomaker della regione sul tema del contrasto al fenomeno delle truffe telefoniche online, titolo Non abbocchiamo. L'altro è la Toscana che fa bene ed è promosso in collaborazione con il CESVOT, Centro Servizi del Volontariato, al fine di premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2023-2024 nella nostra regione. Intanto il bando del Consiglio regionale per celebrare gli etruschi ha avuto successo, ci sono stati 40 vincitori, comuni, musei, altri enti, pensate che l'anno scorso avevano partecipato solo in 24 e così la civiltà etrusca torna in primissimo piano. Noi oggi finiamo qui, ci rivediamo venerdì prossimo 13 settembre alle 21.10 sempre subito dopo il nostro Tg della Sera.